Il caffè maro di oggi lo prendiamo sull'autostrada del Brennero, uno snodo fondamentale per l'economia italiana, da cui passa più del 30% dell'export verso l'Europa. Ma non tutti sanno che il valico del Brennero è terreno di guerra con l'Austria. Al massimo qualcuno ha sentito parlare di quando gli austriaci lo chiudono per paura che venga attraversato dai migranti, ma quella è solo la punta dell'iceberg. Da anni infatti ci sono limitazioni sulla circolazione da parte dell'Austria, ci sono limitazioni sul tipo di merce che può passare, considerate violazione delle regole europee da parte del governo italiano, che infatti sta chiedendo una procedura di infrazione. Poi ci sono limitazioni della circolazione in virtù delle regole sull'inquinamento. E l'ultima novità è che dall'anno prossimo le corsie passeranno da 4 a 1 per supposte ragioni strutturali del ponte, si parla sempre dell'auto austriaco. La struttura è vecchia e non può sopportare quel carico. Bene, non bastasse la guerra nel Mar Rosso, ne abbiamo un'altra in casa, perlomeno commerciale, che però passa sotto silenzio, nessuno ne sa molto, e quindi vale la pena buttarci un occhio. Buon caffè, cercatemi su YouTube e iscrivetevi al canale.